Buongiorno, benvenuti al Fab Lab. Sono Massimo Temporelli, co-founder di questo fantastico lab nel centro di Milano, Italia. Come probabilmente lo sapete, Leonardo da Vinci, uno dei più importanti designer della storia, viveva qui, nella nostra città, quasi 5 anni fa. E oggi, la nostra città è conosciuta internazionale per la passione e il design. Ti dico tutto questo perché oggi, in questo lab, produriamo un progetto che unisce insieme la creatività, il design e l'industria. Oggi, in questo lab, produriamo una robota robótica basata su Industrial Shield, un PLC open source. Iniziamo! Oggi, grazie a questi tipi di prodotti, e grazie al Fab Lab e alla comunità di MAKERS, è abbastanza facile costruire un robot industriale. Quando abbiamo iniziato dal principio del nostro progetto, abbiamo trovato un roboto meraviglioso sul web. Questo è da Rook Fab Lab, un fab lab in Denmark, e come puoi vedere, puoi downloadare tutte le parti meccaniche e anche tutto il codice di questo robot, un codice Arduino. ma, naturalmente, siamo in Fab Lab, e poi abbiamo cambiato il progetto e abbiamo ottenuto questo nuovo progetto, molto meraviglioso, e questo è perfetto per il nostro lab. Ora abbiamo tutti i file delle parti meccaniche e anche il codice per lo pilotare. Ora abbiamo bisogno di scegliere il materiale per lo construirlo. Potrebbe essere divertente usare un materiale naturale per creare questo robot tecnico e per farlo più amico. Ho scelto questa piattaa di wood, è molto calda, è perfetto per il nostro progetto. Ora andiamo al laser cutter per farlo. in 3 minuti, il laser cutter corta tutte le parti meccaniche è abbastanza amico. Poi mettere tutte le parti meccaniche è molto facile e facile, in questo modo. e proprio in 25 minuti ho ottenuto questo. Vedo. Questo è il nostro ottimo robot. Ora ho bisogno di mettere l'ultima parte della nostra struttura in questo modo. Ora abbiamo bisogno di designare e di construire la nostra struttura con le motori e le motori e, ovviamente, con la nostra struttura industrial la parte elettronica del nostro robot per pilotare il nostro robot. Ok, facciamoci. Qui siamo. Questo è l'elettronica dove abbiamo sviluppato e designato tutti gli circuiti elettronici per i nostri robot. Ok, vorrei darevi la lista delle strutture che abbiamo usato per i nostri robot. Prima di tutto abbiamo tre stepper motori uno per ogni axis. Questi tre stepper motori sono piloti da questi tre driver. e nella parte finale del nostro robot abbiamo inserito questi due clampi. Questi due clampi sono riusciti da questi due servomotori. Per sicuro, per dare energia a tutti questi componenti usiamo questo prodotto e, finalmente, ovviamente, per pilotare tutti questi componenti usiamo l'industrial shield PLC. Ok, ora abbiamo togliere il nostro robot tutto questo componenti. Let's start! Here we are! All the electronic components are on board and wired and now we have to transfer the instructions from our PC to our robots. We can use a normal, classic cable. ok, in this way. And now I can show you what this robot can do. Ok, let's go! ok, it's work. Now I'm very excited to bring our robot in a real industrial context. Ok, see you there! . . . . Grazie a tutti.